Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando a parlare del maltempo. In Toscana purtroppo è salito il numero delle vittime, alcuni comuni sono stati evacuati e per la giornata di domani c'è un'allerta arancione soprattutto per il centro nord della Toscana e gialla. Per quello che riguarda invece le zone del centro sud e quindi anche il territorio aretino. È salito a 7 il bilancio delle vittime del maltempo in Toscana e per le prossime ore il meteo potrebbe ancora peggiorare. Ad essere colpite sono state soprattutto le province di Prato, Pisa, Firenze. Il presidente della regione Eugenio Gianni ha deciso l'evacuazione di alcuni comuni a scopo precauzionale. Le condizioni del meteo infatti continuano ad essere critiche. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento, tanto che la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice di allerta arancione per tutta la giornata del 5 novembre per le province di Livorno, Pisa, Pistoia, Firenze, Prato, Massacarrara e Lucca. Per le altre province, quindi compreso anche il territorio aretino, il codice è giallo. A preoccupare in provincia di Arezzo non è stata tanto l'acqua quanto il vento. Tanti rami degli alberi rimasti ancora pericolanti e i tronchi squarciati ma non caduti dopo la tempesta nella notte tra il 2 e il 3 di novembre. Il parco del Pionta poche ore fa si presentava ancora così, come denunciato dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie. Oggi 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Le celebrazioni proprio a causa del maltempo si sono svolte presso il palazzo della prefettura di Arezzo nel Salone d'Onore e hanno visto la partecipazione anche di un coro di bambini che arrivava in questo caso a Civitella in Valdichiana. Il 4 novembre l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti che nel 1918 consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste portando a compimento il processo di unificazione e mettendo fine alla Grande Guerra dopo quasi tre anni e mezzo. Il 4 novembre del 1921 poi la tumulazione del milite ignoto in onore dei sacrifici dei soldati caduti in difesa della patria. Nel 1922 il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale. Anche ad Arezzo oggi le celebrazioni del giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate dopo l'alza bandiera al sacrario militare le celebrazioni presso il Salone d'Onore della Prefettura di Arezzo. Oggi celebriamo la festa di Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate che sempre di più sono quelle che ci garantiscono il rispetto di quelli che sono i principi costituzionali ma soprattutto la pace e ancora di più in un momento come questo dove il mondo è devastato dalle guerre l'importanza del ruolo delle nostre Forze Armate anche nelle tante missioni di pace all'estero è veramente indispensabile. In questa giornata devo dire che però un pensiero commosso va anche alle vittime dell'alluvione che c'è stato in questi giorni nella nostra Toscana e una vicinanza particolare ai familiari delle vittime. A far da cornice alle celebrazioni l'esecuzione di brani musicali a cura degli allievi dell'Istituto Comprensivo Marteri di Civitella e Civitella in Val di Chiana. È indispensabile che comprendano il valore delle nostre istituzioni, di quanto sia importante per la nostra vita repubblicana e per la salvaguardia dei nostri diritti la presenza delle Forze Armate. Sicure al venire e le scuole E d'acqua che avessi da caro all'olte Su l'anno e suolo vinti dormi feri La pace non trovo Le oppressi miei stranieri Parliamo di un caso che ci porta in Valdarno Gli inquilini di queste abitazioni che vi stiamo per mostrare stanno protestando da mesi appunto per il degrado in cui sono costretti a vivere Io sono arrivato qui tramite il comune di San Giovanni Valdarno perché avevo uno sfratto esecutivo e stavo finendo in mezzo alla strada quando all'ultimo momento è venuto fuori questo alloggio Quanto doveva pagare? All'inizio quando sono entrato qui pagavo 330 euro mensili e adesso siamo arrivati a pagarne 705,46 Con un alloggio pieno di infiltrazioni con l'arredamento completamente da buttare manutenzione esterna inesistente crolla tutto a me mi devono dire da dove tirano fuori cifre di 705 euro mensili Infiltrazioni di acqua, umidità, presenza di topi e degrado questo denunciano da mesi gli inquilini di questi immobili che si trovano in località Cetinale nel comune di San Giovanni Valdarno Sono di proprietà di Arezzo Casa la partecipata dai comuni di tutto l'Aretino ma queste non sono case popolari bensì abitazioni ad affitto calmierato un canone cioè più basso rispetto a quello di mercato che se aggiunto ai consumi arriva in alcuni casi anche a 1000 euro al mese Diciamo al canone veniva aggiunta sempre una somma a titolo di consumi perché ero ben consapevole che ci sarebbe stato il metano e l'acqua in comune con gli altri condomini però un conguaglio di una quota fissa che si aggira intorno ai 700 euro mensili motivo per cui il pagamento in realtà corrispondeva a una cifra tra i 1900 e i 1034 euro impossibile per me da sostenere Alla situazione di degrado denunciata dai condomini da fine agosto si è aggiunto il problema del non funzionamento della centrale termica quindi famiglie con anziani e minori sono senza acqua calda e riscaldamento e così i condomini hanno deciso come forma di protesta di smettere di pagare L'alloggio da subito è risultato invivibile sotto vari aspetti per il degrado, per la muffa, l'umidità quindi non alloggio adatti anche ad ospitare una famiglia con dei minori siamo stati più volte in maniera individuale a rappresentare la situazione però siamo andati avanti in questo silenzio in questa sorta di omertà e chiaramente non avendo alternative siamo rimasti qui e l'unica arma è stata quella di smettere di pagare quindi ora ci vengono contestate queste morosità che di fatto esistono ma esistono perché non siamo mai stati messi in condizioni di pagare e di vivere in maniera dignitosa Una situazione ben nota anche all'amministrazione comunale che ha incontrato alcuni degli inquilini stiamo seguendo la questione da tempo ci conferma il sindaco Valentina Vadi già una prima lettera era stata inviata ad Arezzo Casa il 27 settembre inoltre lo scorso 24 ottobre abbiamo avviato un procedimento nei riguardi di Arezzo Casa per far sì che possa ottemperare alla manutenzione straordinaria di sua competenza questo dopo il sopralluogo ASL effettuato in data 11 ottobre in seguito alla segnalazione di alcuni condomini Voi come Movimento 5 Stelle porterete la questione in Consiglio Comunale? Sì, noi portiamo la questione in Consiglio Comunale tramite un'interrogazione intanto partiamo da quella e poi arrivare anche ad Arezzo Casa che si deve prendere la responsabilità del degrado in cui vivono perché sinceramente avere degli affitti che sfiorano dei valori che potrebbero essere tranquillamente quelli del centro storico di una grande città siamo in periferia fra due comuni in una zona dimenticata da tutti è assurdo anche le spese che loro stanno sostenendo Arezzo Casa ha confermato che l'azienda si sta muovendo verso una precisa direzione entro il 15 novembre sarà ripristinata la porta della centrale termica nomineremo, dice l'azienda un responsabile colui cioè che avrà l'accesso esclusivo alla caldaia e successivamente provvederemo a rimetterla in sesto Con il prossimo servizio rimaniamo in Valdarno perché ricorderete abbiamo trattato più volte la notizia del crollo all'interno dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno che avvenne poco prima dell'inizio dell'anno scolastico con poi la dichiarazione di inagibilità dell'Istituto e tutte le conseguenze del caso nelle scorse ore c'è stato un altro crollo Le tre classi che stavano facendo lezioni sono state immediatamente chiuse all'accesso esterno perché si era distaccato un pezzo del muro ed era caduto in terra cadendo in terra ha praticamente sfondato la tettoia di plexiglass veramente molto vicino alla sua faccia Una tragedia sfiorata soltanto per un caso fortunato è stata infatti ancora una mattinata di grande tensione all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni in Via Piave una sessantina di studenti dell'indirizzo acconciatori ed estetisti stavano facendo lezioni all'interno quando attorno alle 10.30 subito dopo l'intervallo si è verificato il distaccamento dell'intonaco una parte del muro è precipitata sulla tettoia di plexiglass che si trova all'ingresso dei laboratori dove si trovavano alcuni alunni ed è caduta in terra sfiorando un docente quindi mi sono assicurata che non ci fosse nessun alunno e nessun professore ferito e finito questo abbiamo subito attivato l'emergenza quindi abbiamo chiamato i vigili del fuoco abbiamo avvisato il sindaco Vadi la provincia e il nostro dirigente dottor Santi si tratta del secondo crollo pochi giorni prima del suono della prima campanella venire giù solaio e controsoffitto di un'aula la provincia comunque nel pomeriggio diere è intervenuta tempestivamente per risistemare la situazione per cui già dal lunedì i ragazzi potranno continuare ritornare a usufruire di quelle aule a questo punto stando la situazione ossia e quindi i ragazzi potranno tornare dal lunedì a riutilizzare quelle stesse aule ne mancano quattro ma già sono state individuate grazie alla disponibilità della parrocchia di San Pietro e Paolo nel quartiere Bani di San Giovanni Val d'Arma è chiaro che la provincia dovrà cominciare a pensare ad un progetto più ampio di intervento e di ristrutturazione di quell'edificio sciopero dei mezzi di Autolinea Toscana per il prossimo 9 novembre per le province di Arezzo Grosseto e Siena le fasce orarie in cui il servizio e il trasporto pubblico locale sarà comunque garantito sono tra le 4 e 15 del mattino e le 8 e 14 le 12 e 30 e le 14 e 30 il Tar ha ribaltato la decisione allora i tifosi a Maranto potranno seguire l'Arezzo a Pesaro tutto ribaltato il Tar di Ancona infatti ha accolto il ricorso presentato da Orgoglio a Maranto e sospeso il decreto del prefetto di Pesaro con cui veniva vietata la vendita dei biglietti per la partita di domenica ai residenti in provincia di Arezzo il giudice del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha anche stigmatizzato l'effetto punitivo del provvedimento ritenuto incongruo i tifosi potranno quindi prendere parte alla trasferta senza alcuna restrizione e a breve verranno comunicate le modalità di acquisto dei tagliandi così come nel precedente ricorso vinto dalla società del Lecce marzo 2023 trasferta vietata e poi riaperta a Milano per la partita contro l'Inter scrive Orgoglio Amaranto anche per l'Arezzo adesso si aprono le porte del settore ospiti dello stadio di Prato per il comitato dei tifosi che detiene l'1% della società sportiva Arezzo questo è un risultato importantissimo una messa in atto dei principi che lo muovono al fianco dei tifosi al fianco dell'Arezzo la decisione di vietare la trasferta di Pesaro era arrivata al termine della riunione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e del gruppo operativo di sicurezza a seguito di quanto accaduto in occasione della gara Arezzo Spal del 23 ottobre scorso screening informazioni e solidarietà nel novembre delle farmacie comunali ad Arezzo il nuovo mese troverà il proprio cuore nell'iniziativa solidale in farmacia per i bambini a favore del Tevenin sarà infatti possibile donare farmaci da banco alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici il mese sarà ulteriormente arricchito da una campagna di informazione dal tema prevenzione dell'influenza che sarà in programma da sabato 18 a sabato 25 novembre un'occasione per sensibilizzare proprio i cittadini verso le corrette pratiche per arginare i più comuni malanni di stagione parlando proprio di stagione quella autunnale andiamo adesso invece a parlare di una prelibatezza della tavola ovvero i funghi ma c'è da fare come sempre attenzione a quelli velenosi autunno sinonimo di tante prelibatezze sulle nostre tavole tra queste i funghi che complici le piogge di questi giorni cresceranno rigogliosi nei nostri boschi per evitare intossicazioni la ASL mette a disposizione come ogni anno i suoi esperti presso gli sportelli micologici il servizio inizierà lunedì 6 novembre i funghi raccolti potranno essere dunque controllati prima di finire in padella gli sportelli sono nelle diverse sedi delle province di Arezzo Siena e Grosseto senza bisogno di prenotazione i professionisti ASL oltre a determinare la loro commestibilità potranno anche dare indicazioni e consigli sulla corretta manipolazione cottura e conservazione per agevolare il controllo è consigliato di portare i funghi in contenitori rigidi o forati come cestini mantenerli interi pulirli dal terriccio e dalle foglie presentarli in buono stato di conservazione in attesa del controllo si raccomanda di conservarli in frigo i funghi che non rispetteranno queste condizioni o quelli che risulteranno ancora peggio appartenere a specie non commestibili o velenose saranno distrutti siamo preoccupati per il futuro della ricettività in casentino tra la concorrenza sleale di strutture fantasma e i problemi della viabilità lo afferma il responsabile della delegazione casentinese di confcommercio Firenze e Arezzo Luca Boccalini all'indomani della riunione con gli albergatori della Vallata a cui ha partecipato anche la responsabile dell'area turismo Laura Lodone anche in virtù degli investimenti fatti dice il presidente dagli operatori sarebbe utile che le amministrazioni comunali condividessero il calendario dei cantieri in corso e se possibile che riaprissero i vali in corrispondenza del fine settimana delle principali festività è ovvio che i lavori vadano fatti ma è auspicabile minimizzare i disagi l'associazione Signarezzi dona al comune di Arezzo il defibrillatore vinto al Saracino del cuore adesso tutti i quartieri sono come dire cardioprotetti hanno dei macchinari quindi hanno il defibrillatore ma hanno anche persone formate che eventualmente all'albisogna sarebbero in grado di utilizzarlo quindi grazie a tutti quelli che hanno veramente sponsorizzato e ideato questa iniziativa adesso la città è più protetta la città di Arezzo sempre più cardioprotetta un nuovo defibrillatore è stato infatti posizionato in via Bicchieraia 30 accanto alla sede dell'associazione Signarezzi è il punto in cui parte tutta la macchina della giostra nei vari eventi del calendario giostresco questo è il punto di ritrovo di tutte le varie compagini e da cui parte poi il corteo quindi è stato questo il motivo che ci ha spinto a scegliere questo punto per poter installare il defibrillatore proprio perché oltre che essere al centro della città è anche un punto di partenza e quindi di aggregazione si tratta dello strumento salvavita che l'associazione ha vinto durante l'iniziativa Saracino del Cuore l'evento organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza non solo della diffusione capillare di defibrillatori ma anche della formazione per usarli al meglio in caso di necessità Viva Arezzo perché grazie alla sinergia con l'amministrazione comunale tutti i gruppi e i quartieri della città di Arezzo siamo riusciti a far sì che Arezzo avesse 6 defibrillatori in più e oltre 200 persone tra i quartieristi e i vari gruppi formati al massaggio cardiaco questo è il vero successo e il vero obiettivo che abbiamo centrato in queste tre manifestazioni che si chiamano Saracino del Cuore in questa edizione particolarmente sentita quella dedicata a Dante Alighieri dove c'è stata anche una relazione da parte del professor Claudio Santori e dove lo stesso premio è stato consegnato a Papa Francesco oggi andiamo a consegnare alla città nel punto nevlagico più centrale un defibrillatore che potrà essere utile in caso di necessità sperando che poi non venga mai utilizzato lo strumento era stato messo in palio grazie alla sensibilità del Rotary Club della provincia aretina è aperta la biglietteria per gli spettacoli della stagione teatrale a Castiglion Fiorentino con la direzione artistica dell'associazione Capotrave kilowatt diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci 13 gli spettacoli in cartellone abbiamo dicono i direttori artistici costruito una stagione esplosiva quella dai grandi nomi nel serale del circo contemporaneo che poi sarà amato da tutti e per i bambini e i ragazzi in un momento così difficile per il carovita abbiamo anche abbassato il costo del biglietto la stagione sarà inaugurata il prossimo 9 novembre alle 20 e 45 con lo spettacolo di Gene Gnocchi dopo il successo della mostra Signorelli 500 il MAIC il Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona concederà l'ingresso gratuito a tutti i residenti del comune di Cortona fino al 31 dicembre 2023 la decisione è stata assunta dal comitato tecnico del MAIC nell'incontro di venerdì scorso la novità è già attiva proprio in questo fine settimana e siamo allo sport come sappiamo per quello che riguarda il calcio di lettanti e il settore giovanile c'è la decisione della Lega Nazionale di Lettanti del Comitato Toscano di sospendere tutte le partite in questo fine settimana verranno poi recuperate a ridosso del Natale questo ovviamente per quello che sta accadendo in Toscana in queste ore per quello che riguarda invece il settore dei professionisti si va avanti e allora domani l'Arezzo affronterà appunto questa trasferta a Pesco la partita è alle 18.30 sentiamo allora quali sono gli ultimi dubbi di Mister Indiani si è fatto una grossa cosa di spesa perché è partita non so se c'è l'esercito ma le prime 3-0 punti con le parti le prime 3-0 punti e ce la fai e rientrare in gruppo si dica che c'è qualcosa ovviamente gli incassi specialmente sono temibili speriamo di obbligare luce se non gli obbligare luce sicuramente in 10 non ci vedevo qualcosa qualcosa avremo abbiamo perso qualche volta sfortunata se vinciamo una volta sfortunata pari e pata e che direi quantomeno ce la facciamo a ritenere la porta inviolata e poi chiederò sicuramente un'altra cosa per i nostri meravigliosi tifosi voglio ringraziare lui di palindazione perché ci hanno incitato fino alla fine di quella stagione con la difficoltà che avevamo una battuta pensare giocheranno al pinto lo ripagano e dentro questo fatto che possano ritornare speriamo di farli ritornare con gioia le ragazze invece dell'Arezzo calcio femminile domani torneranno a giocare allo stadio città di Arezzo arriva il San Marino Academy sentiamo il mister ai nostri microfoni questi giorni come vedete abbiamo avuto una settimana e mezzo di allenamenti più inglesi diciamo con questo clima ma dappertutto in Italia vediamo che era veramente duro di allenarsi però con molta energia e molta positività abbiamo messo nei allenamenti delle cose che vogliamo vedere soprattutto con il pallone il nostro gioco giochiamo in un stadio in uno stadio che siamo veramente come società come squadra orgogliosi di giocare davanti dal popolo dei cittadini di Arezzo quindi si è andata molto bene questa settimana il San Marino è una squadra che abbiamo studiato i loro giochi una squadra che ad esperienza anche qualche giocatrici hanno hanno tenuto le giocatrici che hanno giocato in Serie A quindi io mi aspetto un modulo molto compatto una squadra che sempre nelle cinque partite che ha fatto fino ad ora è molto molto a disciplina è molto stretta con il modulo rigida quindi nel nostro campo noi vogliamo fare il nostro gioco e siamo ben preparati e sempre domani per in questo caso i colori amaranto ma del basket c'è il secondo turno casalingo consecutivo per l'AMNBC Servizi dopo la vittoria contro il Castelfiorentino domani arriva il San Mignato secondo turno casalingo consecutivo domenica per l'AMNBC Servizi dopo l'infrasettimanale di mercoledì scorso contro Castelfiorentino domenica 5 novembre alle 18 al Palace Portestra arriva la Patrie San Mignato anche San Mignato ha vinto l'ultima partita superando in casa Sestri dando così continuità al successo del turno precedente sul campo di Castelfiorentino guidata in panchina dall'ex Pontedera Martelloni i pisani hanno in bella chioma il principale riferimento offensivo capace di mettere a referto ben 16 punti a partita la Patrie può contare su altri quattro giocatori giovani Cilovato Menconi e Cravero che stanno viaggiando oltre la doppia cifra di realizzazione a testimonianza della pericolosità offensiva di una delle squadre più giovani dell'intero girone di serie B e che in classifica segue di soli due punti la capolista solitaria Empoli servirà un'ame in bc servizi con lo spirito battagliero e con una ricarica di energia per poter impensierire il quintetto avversario e provare per la prima volta in stagione a prendersi due vittorie consecutive per tutti gli sportivi e amaranto l'appuntamento è per domenica al Pala Sportestra con Palla 2 programmata per le 18 È tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia e attenzione e arrivederci